un consiglio da genovese attenti al risparmio fine giornata al mercato si possono comprare a prezzo inferiore dei bellissimi pomodori magari un po' sciupati da fare confini mentre li lascio a bagno in acqua di carbonato per rimuovere i pesticidi preparo il condimento questo è aglio che ho coltivato sull'ortazzo e questo è il basilico che dopo l'amareggiata si è un po' sciupato ma che è perfetto per essere tritato grandi comprese e cotto al forno per insaporire i pomodori e sì sto usando il mio bellissimo tagliere di bambù di coro con le sue comodissime vaschette di acciaio che mi semplifica tantissimo la preparazione di qualsiasi tipo di cibo in didascalia ci sono altre informazioni incluso il prezzo che è molto più basso di quanto pensiate e il codice sconto per poterlo comprare sullo shop di coro ora prima ho detto che facevo dei pomodorini confì in realtà sono semplicemente cotti al forno perché la cottura confì tecnicamente è quella che si fa con un cibo immerso in un grasso per ottenere il massimo del loro sapore li cuocio a 130 gradi forno ventilato per circa 45 minuti in frigo si conservano per diversi giorni io li adoro su pane hummus e aspetto di sentire come li usereste voi